la media gamma ragazzi è sempre la scelta migliore ma questa non è una media gamma è una top di gamma vestita da media vediamo perché eh sì ragazzi abbiamo davanti ai nostri occhi una bella colnago v4 rs in questa splendida colorazione bianco perla con rifiniture argentate brillantinate guardate che spettacolo veramente al sole fa la sua figura e poi ci sono questi belli bei stemmi quindi il trifoglio o meglio ancora l'asso di fiori e la scrittina colnago in questa colorazione iridescente quindi colorazione che a me piace tanto era quella che avevo scelto per me prima di prendere la c68 ma nessuno esclude nulla esclude che prima o poi questa sarà la mia bici comunque procediamo con ordine questa è montata con un gruppo shimano ultegra di a2 12 velocità pacco pignoni 11 30 non guardate questo filo che va messo meglio guarnitura sempre ultegra corone 52 36 dragliatore ultegra leve ovviamente shimano ultegra 12 velocità abbiamo ormai imparate a conoscere su altre bici il manubrio è il classico manubrio colnago cc 01 che equipaggia tutti i modelli top di gamma in dv4 e c68 manubrio in carbonio integrato con l'attacco manubrio presa piatta ma non troppo manubrio leggero con un diciamo non troppo marcato sweep verso l'esterno della parte inferiore del manubrio quindi questo è un 41 centro centro che diciamo cresce un pochino in presa bassa ci sono ovviamente gli spessori dedicati per questo telaio per questo manubrio qui scritta ceramic speed da ricordarci che i metti sono dell'azienda ceramics speed questo pezzo di forcella ovviamente va tagliato e poi ci va messo il bel tappo con il logo colnago che va a chiudere il tutto il reggisella sempre macchiato colnago sempre in carbonio reggisella piatto posteriormente quindi tronco mentre all'anteriore è ovale a goccia reggisella abbastanza massiccio che si sposa bene con il tubo piantone di questo telaio mentre la sella montata è una prologo scratch m5 senza foro centrale come vuole da depo caccia lei lui non la usa con il foro quindi colnago giustamente monta tutte selle senza foro per finire i dischi sono ovviamente un tecla come tutto il resto del gruppo e sono da 160 all'anteriore e da 140 al posteriore scelta migliore su una bici da strada non si può fare le vince sono un tecla con pasticche ventilate questa bici questo allestimento prevede delle ruote fulcrum racing 600 quindi ruote in alluminio abbastanza base di gamma montate con copertoni pirelli p zero race 700 per 28 con camera d'aria quindi copertoni top di gamma pirelli per gamma con camera d'aria da 28 mm di larghezza e nonostante ciò come possiamo vedere c'è diciamo ancora un bel passaggio sia posteriore che all'anteriore tra il copertone e i foderi posteriore e i foderi della forcella quindi diciamo che un 30 32 ci va tranquillamente dunque prima di arrivare a peso e prezzo di questa fantastica v4 rs colorazione white volevo dirvi perché appunto all'inizio ho detto che questa è una top vestita da media top perché v4 rs è il top di gamma di colnago telaio usato dai pro per correre quindi niente è il meglio che l'azienda può offrire per chi cerca la prestazione pura quindi un telaio top montato un gruppo ultegra di e2 che ormai lo sappiamo benissimo rispetto al fratello maggiore due race ha veramente poco poco meno da offrire perché a parte un paio di atti di peso e funzionalità sono praticamente le stesse sfido chiunque a capire che la campionata dell'utegra è diversa dal due race o meglio per trovare delle differenze bisognerebbe provare lì entrambi in modo super accurato quindi non è una cosa che possono fare tutti costa ovviamente molto meno quindi l'utegra è sicuramente un'ottima scelta per chi vuole un bel gruppo elettronico di casa shimano e le ruote di questa appunto di questo allestimento sony alluminio ma con mille euro in più possono essere scelte anche delle ruote in carbonio sempre fulcrum o comunque poi possono essere cambiate in seguito e appunto vi dicevo che è un telaio top vestito da media e anche secondo me dal prezzo di una medio gamma perché se ci pensiamo bene questa versione di il listino viene proposta neanche 7.200 euro ma 7.200 euro ragazzi al giorno d'oggi ci si prende un telaio medio di gamma non un telaio top di gamma basta pensare a bianchi canon del specialized track non so scott di sicuro non hanno in gamma un allestimento con telaio top a questo prezzo ho dimenticato a dirvi il peso 7 kg 6 così come la vedete quindi niente male quindi col nago che di sicuro è un brand che non ha nulla da invidiare a quelli appena citati per lo meno come blasone è stata secondo me una scelta super azzeccata da parte loro proporre già un prezzo di entrata per il telaio top di gamma appunto a poco più di 7 mila euro di listino che poi ovviamente vanno diciamo limati vanno scontati quindi secondo me questa bici è veramente un'ottima scelta per chi ripeto vuole già un telaio top con un ottimo gruppo bici che poi con il tempo può essere benissimo upgradata mettendo una coppia di roda in carbonio magari poi aggiungendoci un gruppo di race cosa che comunque non avrebbe tanto senso dal mio punto di vista comunque è un punto di partenza già ottimo per avere un'ottima bici senza spendere le cifre assurde superiore 10 mila euro di cui ormai siamo abituati per avere un telaio top di gamma montato alla fine neanche al top quindi ottima scelta col nago veramente non pensavo prima di trattare questo marchio che un'azienda come col nago appunto che da tutti viene considerata marchio costoso proponesse una bici telaio top di gamma con gruppo niente male ripeto si ruota in alluminio ma ripeto anche questo con poco si migliora non pensavo che un marchio del genere avrebbe potuto offrire una proposta di questo livello fatemi sapere se anche voi la pensate come me fatemi sapere se anche a voi piace questa colorazione bianco perla io la ho scelta per me e continuo a condividere questa mia scelta ad appoggiarla sceglierei ancora questa anche dopo aver visto la colorazione team quindi scrivete tutto qua sotto nei commenti per preventivi offerte e cose varie email whatsapp mi trovate dappertutto grazie ancora per l'attenzione iscrivetevi al canale un bel like se vi è piaciuto e come al solito ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao